L'unica cosa che ho da contrapporre a quello che ha sentenziato il giudice è la mia vita. Non ho commesso i reati per i quali sono stato condannato, anzi, ho sempre agito in senso completamente opposto. Lo ha detto Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, nel corso della conferenza stampa che ha tenuto insieme ai suoi avvocati, Giuliano Pisapia e Andrea D'Acqua, nel centro della Locride, per illustrare il ricorso presentato contro la sentenza emessa nel settembre scorso dal Tribunale di Locri, che lo ha condannato a 13 anni e due mesi di reclusione, riconoscendolo colpevole di presunti illeciti commessi, nella qualità di primo cittadino, nella gestione dei migranti. All'incontro erano collegati, in videoconferenza, padre Alex Zanotelli, missionario con Boniano, ed il senatore Gregorio De Falco, entrambi vicini alle posizioni di Lucano. Abbiamo subito detto che il dispositivo era aberrante, leggendo la motivazione abbiamo subito concluso che la motivazione è più aberrante del dispositivo stesso. Ci sono errori assolutamente evidenti che non possono sfuggire, c'è un uso smisurato delle intercettazioni alle quali addirittura abbiamo rilevato, ma lo vedete nell'atto d'appello, abbiamo rilevato delle intercettazioni a cui il Tribunale ha dato un significato, un'interpretazione diversa dal contenuto letterale delle stesse, ma la cosa più grave è diversa da quella che aveva dato il perito trascrittore dello stesso Tribunale, non del Consulente di parte. Abbiamo rilevato che vengono silenziati alcuni dati documentali importantissimi che abbiamo fornito, vengono indicate in maniera suggestiva circostanze che nulla hanno a che vedere con i capi di imputazione, quindi erano assolutamente forniti in maniera suggestiva. abbiamo risultato un'addirittura, e questo c'è un espresso di vieto del codice, vengono utilizzati i verbali di interrogatori e di altri coimputati, nonostante, vi ripeto, c'è l'espresso di vieto di legge. Sono questi soltanto alcuni indicatori della assoluta infondatezza e della motivazione per cui noi confidiamo nell'esito positivo del giudizio d'appello.